Buongiorno, bentornati. Oggi parleremo di nuovo del narcisismo ad un livello però abbastanza avanzato. Quindi questo video non è proprio per tutti. Iniziamo a dire che uno dei massimi esperti di narcisismo è Cout. Per Cout esiste un fisiologico sviluppo narcisistico della personalità che muove da uno stato originario di grandiosità arcaica e di ondipotenza per incanalarsi in un narcisismo sano e costruttivo su cui si fondano l'autostima e le sane aspirazioni. Questo narcisismo evoluto è in stretto rapporto con acquisizioni umane fondamentali, quali la creatività, la capacità empatica, la capacità di riflettere sulla propria caducità, l'umorismo e la saggezza. Si tratta di una delle acquisizioni del narcisismo maturo. Quindi anche l'ironia è un'acquisizione del narcisismo, ovvero è quella capacità di ridere di sé e di scorgere il lato comico degli eventi. Chi riesce ad evidenziare aspetti comici della vita è una persona fortunata. Inoltre, io penso che le persone che non si prendono troppo sul serio in realtà lavorano e vivono molto seriamente, mentre quelle sempre impeccabili sono persone pericolose, perché non danno scampo né a se stesse né agli altri. Cout guarda il narcisismo come ad una dimensione primaria della vita psichica, caratterizzata, come accennavo prima, da grandiosità, da onnipotenza e da invulnerabilità. Questi sono aspetti tipici della mente infantile, che non scompaiono mai completamente con lo sviluppo e possono riemergere in determinate situazioni. L'evoluzione della personalità consiste nel dominare queste manifestazioni e nel relativizzarle, ridefinendo queste caratteristiche primitive per poter recuperare questi aspetti quando è necessario. In altre parole, l'autostima, ovvero la fiducia in se stessi, quindi la capacità di affermarsi, sono radicate in un sano narcisismo. E tutti questi sono fattori indispensabili per avere rapporti oggettuali maturi. Sono cioè un prerequisito dell'amore e non una loro conseguenza. Alcune delle più intense relazioni oggettuali sono di tipo essenzialmente narcisistico. Questo Cout lo precisa bene. La sua psicologia del sé ha dimostrato che un individuo può avere una facciata esteriore di regolari rapporti oggettuali, e può però essere totalmente privo di un adeguato senso di autostima. Inoltre, Cout parla dell'offesa narcisistica. L'offesa narcisistica primaria è collegata con l'esperienza della vergogna, e scatena quella che Cout definisce rabbia narcisistica, cioè un fenomeno specifico, un fenomeno affettivo, che appartiene al settore psicologico dell'aggressività, quindi la collera, la distruttività, che consiste in un ampio spettro di esperienze che vanno da circostanze banali, come il semplice fastidio, quando qualcuno non risponde, per esempio, al nostro saluto, o non reagisce ad uno scherzo, fino a sconvolgimenti terribili, come il risentimento caratteristico del paranoico. Abbiamo poi anche il bisogno di vendetta, il risarcimento di una ingiustizia o di un'offesa, o con qualunque mezzo, e una irriducibilità. Questi sono gli elementi distintivi di questa potente evoluzione, la rabbia narcisistica. Secondo questa impostazione di Cout, possiamo dire che le rappresentazioni del sé possono essere contraddittorie, ma dovrebbero coesistere nell'inconscio e anche nell'io e nel superio, quindi all'interno di ciascuna delle istanze. Ad esempio, una rappresentazione di grandiosità può essere presente insieme ad una rappresentazione di inferiorità. In un'intervista del 1981, Cout evidenzia degli elementi specifici che caratterizzano l'esperienza del sé, ovvero un senso di iniziativa, un sentimento di coesione e un senso di forza e di vitalità. Il sé per Cout è il centro dell'iniziativa, un senso di relativa indipendenza e di autoaffermazione, e c'è anche un senso di coesione contrapposto alla frammentazione. Quindi questo è un senso di armonia personale. La vita umana può essere interpretata fondamentalmente da due prospettive diverse. Da un lato abbiamo la ricerca del piacere e dall'altra abbiamo la realizzazione del sé. Per Cout, il concetto di uomo consapevole esprime la tensione e lo sforzo dell'essere umano verso il soddisfacimento delle pulsioni. Ora, partendo da un'affermazione generale, il sé si sviluppa attraverso una graduale separazione dagli oggetti sé. poi l'interiorizzazione delle funzioni che questi oggetti hanno assunto. Queste funzioni sono il rispecchiamento del senso di onnipotenza e di grandiosità che il bambino ha bisogno di esibire in una fase precoce dello sviluppo per consolidare la sua capacità e per introiettare un'immagine positiva di se stesso. Dunque, l'accoglimento del bisogno di idealizzazione messo in atto nei confronti delle figure parentali. In pratica, secondo Cout, il bambino ha necessità di formare un'immagine idealizzata dei genitori, di uno o di entrambi. Ha necessità di sentirsi fuso con l'oggetto apparentemente che appartiene a questo oggetto sé idealizzato. Dopodiché, la fragilità del sé grandioso arcaico esige l'incoraggiante rispecchiamento della madre, la sua accettazione e il suo orgoglio di fronte alle manifestazioni del bambino. Inoltre, esige esperienze di fusione con l'onnipotenza idealizzata dell'oggetto. Il sentirsi al riparo dall'angoscia attraverso la percezione inconscia della serena calma dell'oggetto di fronte ai pericoli esterni e interni. Questo vuol dire che il bambino esperisce gli stati emotivi dell'oggetto come se fossero propri. Se questo non è in grado di rapportarsi empaticamente oppure in cute e spavento, reagendo con risposte ipocondriache, maniacali, depressive o con il rifiuto, allora il bambino è coinvolto in una fusione nociva da cui tenta disperatamente di fuggire con esiti spesso autodistruttivi. Nel corso di uno sviluppo normale si creano due tipi di relazioni sé, sé-oggetti-sé. Le immagini del sé grandioso ed esibizionistico vengono legate a oggetti sé rispecchianti. Espresso in termini verbali si ha questa proposizione che può riassumere quello che stiamo dicendo. Io sono perfetto e tu mi ammiri. Questo dice il bambino alla madre. Io sono perfetto e tu mi ammiri. Invece nella situazione in cui le immagini attenuate del sé si fondono con oggetti sé idealizzati, la proposizione diventa del tipo «Tu sei perfetto e io sono parte di te». La prima configurazione relazionale rimanda ad una fase evolutiva preedipica, ma la seconda situazione rimanda ad una fase evolutiva che è ancora preedipica. E dal momento che tutta la felicità e il potere risiedono nell'oggetto idealizzato, il bambino si sente vuoto e impotente, soprattutto quando è separato da questo oggetto e cerca di conseguenza di mantenere una unione costante con l'oggetto. Ora, sebbene alcuni autori preferiscano ipotizzare che queste due configurazioni narcisistiche siano in successione temporale e che la prima attenga al materno e la seconda al paterno, secondo Cout, la creazione dell'oggetto sé idealizzato e quella del sé grandioso sono in realtà due aspetti della stessa fase evolutiva. O in altre parole, queste si verificano contemporaneamente. Da un punto di vista obiettivo, non solo il narcisismo originario è un precursore dell'amore oggettuale, ma subisce esso stesso una importante evoluzione. Dunque, attraverso un processo che Cout chiama di interiorizzazione trasmutante, ha origine una struttura psichica permanente, ovvero il sé, costituito da due poli, rappresentanti appunto due modalità di relazione narcisistica. Per fare un'analogia biologica, noi abbiamo bisogno di una proteina estranea per produrre la nostra proteina. L'essenza della nostra produzione biologica è appunto la molecola proteica. Evidentemente, il corpo non può produrre molecole proteiche. Ha bisogno di una proteina estranea da scomporre nei suoi aminoacidi sostitutivi, per poi riunirli nuovamente per formare la sua proteina specifica. La nostra proteina è molto diversa da quella estranea. Se mangiamo carne di manzo, non diventiamo dei bovini, questo è chiaro, ma dobbiamo mangiare carne o formaggio o qualunque altro cibo per scomporre queste proteine e ricomporle per i nostri fini. Questa analogia si adatta molto bene all'interiorizzazione trasmutante. Quindi abbiamo bisogno degli altri per diventare noi stessi. Senza gli altri non possiamo diventare noi stessi. Quindi l'organizzazione della personalità può incentrarsi su una tendenza alla primitiva grandiosità e al primitivo bisogno esibizionistico del sé infantile, trasmutato in una sana ambizione e in una salda sicurezza di sé attraverso l'internalizzazione della funzione parentale riflettente. Questo dice Couto. Oppure può essere incentrata sulla relazione narcisistica idealizzante in cui l'oggetto sé, una volta interiorizzato e depotenziato degli aspetti di grandiosità, orienta verso valori e ideali saldi e perseguibili. È evidente che sia il sé grandioso che l'oggetto sé idealizzato devono essere ricondotti all'interno della funzione di realtà dell'io. E questo avviene attraverso la metabolizzazione di frustrazioni narcisistiche appropriate alla fase dello sviluppo. Se però il bambino subisce gravi traumi narcisistici, il sé grandioso non viene assorbito nel relativo contenuto dell'io, ma si conserva nella sua forma inalterata non adatta per il raggiungimento dei suoi scopi. E se il bambino sperimenta delusioni traumatiche nei confronti dell'adulto che lui ammira, allora anche l'immago parentale si conserva nella sua forma inalterata e rimarrà un oggetto sé arcaico necessario per il mantenimento dell'omeostasi narcisistica. Queste relazioni narcisistiche hanno dunque una funzione strutturante, nel senso che il bambino, in seguito ad una serie di adeguate esperienze di frustrazione del bisogno narcisistico specifico, disinveste in parte l'oggetto sé, introiettandone caratteristiche e funzioni che vengono organizzate in una struttura stabile di personalità. La patologia nasce dalla inadempienza inconsapevole del genitore rispetto al suo ruolo di oggetto sé. mentre una mancanza cronica di empatia attribuibile ad una patologia caratteriale delle figure parentali impedisce il processo di internalizzazione trasmutante e questo corrisponde all'idea freudiana che la frustrazione sia un fattore fondamentale allo sviluppo psichico se preceduta da un'esperienza appunto di gratificazione. questo è un passaggio che va sottolineato per cui un misurato e graduale adattamento alla inadeguatezza del genitore porta alla genesi di risorse interiori. In sintesi l'ondipotenza narcisistica originaria deve trasformarsi nel cosiddetto narcisismo sano e questo avviene attraverso adeguate relazioni narcisistiche con oggetti sufficientemente empatici il bambino grida alla madre i suoi bisogni primari e questo certamente è funzionale alla sua sopravvivenza questo atteggiamento diventa però patologico quando permane immutato in età adulta e si può riconoscere in quelle persone eccessivamente preoccupate per se stesse anche quando non ce ne sarebbe motivo e sono persone eccessivamente richiedenti eccessivamente esigenti se il narcisismo non viene integrato disturberà le relazioni sociali perché gli altri non saranno riconosciuti in quanto oggetti autonomi e separati ma esisteranno soltanto in funzione dei propri bisogni ciò che è sano per il lattante in effetti che appunto deve stare in rapporto simbiotico con gli oggetti narcisistici diventa patologico per l'adulto poi il concetto di autostima è un elemento chiave dello sviluppo narcisistico l'ammirazione degli altri aumenterà il livello di autostima in un bel bambino per esempio ed è naturale che il discorso della conferma e dell'accettazione è molto più complesso infatti con la maturazione psicologica le conferme non dovranno più pervenire dagli altri ma dovranno costituire un tratto consolidato della personalità analogamente con i figli non è tanto necessario dare sicurezza quanto essere sicuri è inutile sperare che nostro figlio cresca in un certo modo se noi stessi non abbiamo integrato l'aspetto che esigiamo è il nostro atteggiamento più profondo che inevitabilmente viene assorbito dai figli ed è quello che determina il destino del sé bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche oppure via mail per cui se volete richiedermi una consulenza seguite le indicazioni iscritte al di sotto del video buona giornata grazie a tutti